Ciao amici! A chi piace fare picnic? A noi, a noi! Sì, anche a me! Ho fatto vedere cosa mangio io nei miei picnic estivi in questo video, andatelo a vedere! Secondo le recenti statistiche, 7 italiani su 10 amano il picnic e lo fanno almeno una volta al mese, impegni permettendo. Se si parla di vacanze, ponti e feste comandate, la soluzione piace a 8 italiani su 10. Non si può abbandonare la tradizionale gita fuori porta. Tra l'altro il picnic è anche un trend internazionale. Dalla famiglia reale inglese a VIP come Lady Gaga e Sharon Stone, il picnic è amato in tutto il mondo. E quali sono i posti preferiti? Vince il parco! Il parco è comodo e vicino e vince con il 54%, poi la montagna con il 27%, poi il mare con il 19%. Adesso condivido con voi le 10 regole dei nutrizionisti per fare un picnic sano e gustoso. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. 1. Verdure. Le verdure di stagione, meglio se crude, sono la soluzione ideale per assumere le vitamine e i minerali necessari quando si sta all'aria aperta e si fa attività fisica. 2. Frutta di stagione. Anche la frutta di stagione dovrebbe sempre accompagnare le scampagnate, così si consumano meno dolci e la linea ringrazia. 3. Insalate di pasta e riso. Come carboidrati, via libera insalate di pasta e riso che sono nutrienti e complete, che in programma di muoversi può farsi un bel piatto, mentre chi rimane all'ombra può gustarsi il classico assaggino. Ma non sono una bomba di calorie? Ho io il trucco! Potete fare la mia ricetta di insalata di riso light bruciagrassi che ho spiegato in questo video. Vuoi approfondire questi argomenti e incontrarmi di persona? Partecipa agli eventi, vacanze e soggiorni di benessere che organizzo in tutta Italia. Prenota un coaching di naturopatia personalizzato con me e ottieni il massimo per il tuo benessere. 4. Mangiare poco e spesso. Piuttosto che fare un unico pasto e soffrire l'abbiocco per il resto del tempo, meglio fare piccoli spuntini più spesso, così è anche possibile fare attività fisica e fare il bagno. 5. Dividere il pranzo. Per lo stesso motivo, meglio dividere il pranzo in due o tre momenti, magari mangiando il primo o i classici panini da soli e poi mangiare la frutta o un altro snack due ore dopo, magari dopo aver fatto altra attività fisica. 6. Condimenti light. Per non appesantire i piatti meglio scegliere condimenti light e non eccedere con i grassi, anche quelli buoni. In questo modo si ha una digestione più rapida. 7. Cibi gialli e arancioni. Carote, peperoni, albicocche, pesche, prune gialle sono tutti cibi ricchi di carotenoidi e vitamina A, importanti per la pelle e per proteggersi dal sole. 8. No bibite. Ma come? In estate? Se si vuole dimagrire? Fare un picnic light e accompagnarlo con bibite o succhi industriali pieni di zucchero è un controsenso per la linea. Stesso discorso per gli alcolici che aumentano le calorie del pasto. 9. Occhio al gelato. Giù le mani dal gelato. Guarda che io lo adoro. Bisogna solo fare attenzione. Il gelato è buono ma molto calorico, soprattutto quelli confezionati o gusti creme. Basta mangiarne uno solo, meglio gusto frutta e regolare gli altri pasti in modo da non esagerare con le calorie. 10. Trasporto del cibo. Cos'è un picnic senza i portavivande ben disposti al centro della classica tovaglia a quadretti? Per conservare le proprietà nutrizionali del cibo è meglio condire i piatti e farcire i panini al momento. Per vedere tanti altri video utili basta iscriversi al canale, è facile con un click così e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto. Mangia sano e dimagrisci. Vai in descrizione per trovare le playlist di tutti i miei video, i link ai miei libri ed ebook, i motivi per cui divulgo la mia esperienza. Seguimi sul canale sui social, clicca mi piace, condividi e iscriviti alla newsletter del mio sito. Ogni giorno sempre più trendy e sani, con Simona Vignali naturalmente. Ciao!